Federico Coppiardi, 21 anni, Mantovano di dove? Di volta a Mantovano. Hai giocato nel Milan, mi pare? Sì, ho fatto un anno in primavera, un'esperienza un po' così, poteva andare meglio, però sempre una bella esperienza. Quest'anno hai ritornato a casa? Sì, ho fatto sei mesi con la prima squadra, insomma, nella Serie B si fa fatica a giocare, con tanti giocatori importanti come ci sono a Mantovano, insomma, sono venuto qui per cercare di trovare un po' più di spazio, per fare un po' di esperienza. Ma davanti avevi Nassi, che a Brescia non aveva mai segnato un gol. Lo so, però è arrivato, ha fatto cinque gol nelle prime sei partite, mi sembra, quindi è difficile togliere il posto anche dopo. Coppiardi, oggi sei entrato e dopo venti secondi hai segnato, cosa è successo? Ma Dio, anche un po' di fortuna, diciamo, ho trovato la palla giusta, insomma, poi è stato abbastanza facile, insomma, davanti al portiere da solo, quindi sono contento. E pensi di ritagliarti uno spazio maggiore in questa squadra o è difficile? Ma Dio, io cerco di farmi trovare sempre pronto quando il minister mi chiama e dopo sarà il minister a decidere, insomma, io non penso di potermi sbilanciare su queste cose. Ti sei inserito bene in questa rosa? Sì, ma è un gruppo bellissimo, quindi è stato anche facile inserirsi. Prospettive? Ma guardiamo un giorno dopo l'altro senza farsi troppi castelli, ecco, cerchiamo di guardare un giorno dopo l'altro. Però la squadra continua a progredire? La squadra sta andando benissimo, mi sono arrivato che insomma non conoscevo bene, però insomma per una squadra che, come ho detto prima, Ivan è stata ripescata e doveva fare la Serie D, trovarsi a 39 punti nel trenino della zona playoff, insomma, penso sia un gran traguardo.